Dopo la prima vittoria del 2015 e la sosta di campionato, l'esprima Molfetta riparte da Sansepolcro nella prima trasferta dell'anno, con l'intenzione di non fermarsi proprio ora. La seconda di ritorno propone infatti la sfida sul parquet dell'Alto Tevere città di Castello Sansepolcro, penultima con soli 7 punti, meno della metà dei 16 conquistati dai ragazzi di Mister Dipinto, con il coach che sta trovando l'alchimia giusta dopo l'intervento sul mercato, che ha portato in bianco rosso Mauricio Torres, Rolando Despeigni e il brasiliano Renan Michelucci, oltre al palleggiatore cubano Raidelli Dezuelo. I 12 precedenti tra le due squadre dicono di 7 successi per i padroni di casa e 5 per l'ex privia, ma la sensazione è che domani si possa rimare allo svantaggio. Grandi ex del match saranno Sergio Nodablanco e Roberto Romiti, che hanno vestito la casacca della città di Castello Sansepolcro e Daniele Mazzone a Molfetta nel 2013-2014. Sarà una partita molto impegnativa, detto il centrale dell'ex privia Molfetta Elia Bossi, contro un team che giocherà in modo aggressivo per dimostrare tutte le proprie qualità. Noi però non saremo da meno, ha spiegato Bossi, e vogliamo vincere per continuare a migliorare la nostra classifica.